Buongiorno, buongiorno, al solito cappellone che vi dà un benvenuto sul canale di Economia Italia. Oggi parliamo di come votare, perché votare oltre i programmi. Sarà una live impegnativa e vi dico già da adesso che la live è strutturata in tre parti importanti. Almeno io l'ho pensata così, poi vediamo se la facendo, se andrà così questa live. La prima parte riguarda il come si vota, perché chiaramente molti non sanno come si vota, come funziona il sistema elettorale europeo e quindi mi sembra giusto comunque all'interno di un discorso divulgativo andare a prendere appunto questo tema. Il secondo aspetto che andremo ad indagare è, ma ha senso guardare i programmi, punto di domanda, perché giustamente li abbiamo guardati e la live si intitola come e perché votare oltre i programmi, quindi mi sembra comunque corretto dare un po' di contesto rispetto a quello che abbiamo fatto lungo tutto questo mese e mezzo. Ed infine ho raccolto tutta una serie di domande rispetto ai vari programmi, domande che mi avete fatto in chat, domande che mi avete fatto nei commenti, domande che ho trovato anche, diciamo, sui vari social, Instagram, Twitter, via discorrendo e quindi ho selezionato quelle più interessanti, quelle più importanti, a mio avviso personale, quindi ci mancherebbe, magari ce ne sono anche altre, quindi scrivetemelo nei commenti o comunque in chat e cerchiamo insomma di ragionarci a mente serena. Chiaramente questo video, e lo dico, di metafora, non è un invito all'astensione, ci mancherebbe, perché io ho visto molta gente dire, ma tu inviti all'astensione, io non invito all'astensione, io invito alla consapevolezza, poi se da quella consapevolezza deriva poi la scelta di votare, la scelta di estenersi, la scelta di disegnare forme falliche, quel giorno non è un problema mio, in inteso, quello che a me dà fastidio invece e profondamente fastidio è quando, ad esempio, vediamo, che ne so, il Movimento 5 Stelle, ok, prendo uno a caso e una persona che nei commenti mi scrive questi sono dei venduti, non mi fa piacere vedere una cosa di questo tipo e quindi mi spiace, ma purtroppo puoi andare a sfogare, ecco, questo tuo pensiero da un'altra parte, idem chi mi ha detto, coi verdi sei stato troppo gentile, ho usato lo stesso metro di paragone per tutti gli altri, eventualmente magari si può dire che questa cosa è sbagliata, Umberto, guarda, hai detto sta roba qua, sai che io sono esperto di sta roba qua e mi sa che hai sbagliato, oh, in quel caso alzo le mani, hai ragione tu, ti ascolto più che volentieri, magari mettiamo anche un bel commento fissato in alto in cui faccio mia colpa, ci mancherebbe perché comunque, ripeto, non sono il messia, quindi non è che lo che tocco, insomma, diventa oro, ecco, detto in altri tempi. Tra l'altro vi ricordo di mettere un like per sostenere il canale e infine vi ricordo Guida al Voto, davvero risultato veramente importante considerando che il Guida Voto 2022 era stato fuori un mese, aveva generato una certa revenue, ecco, e qua invece siamo sulla settimana scarsa, ecco, siamo arrivati più o meno a metà di quella revenue, quindi veramente grazie mille, non pensavo così tanto interesse. Andiamo al come si vota. Allora, siamo chiamati a votare appunto tutta una serie di partiti, ogni circoscrizione ha tutta una serie di partiti diversi, secondo appunto se quei partiti hanno ottenuto le firme per potersi presentare, o se banalmente stavano già al Parlamento Europeo, o se banalmente usufruiscono di un simbolo che era già al Parlamento Europeo. Quindi dobbiamo innanzitutto guardare questo aspetto. Ad esempio, NOS non ha raggiunto le firme, tuttavia si avvalida il simbolo prestato da Carlo Calenda per poter appunto presentarsi alle elezioni e quindi starà nelle liste di siamo europei. Questo è un aspetto secondo me importante da considerare, perché? Perché ci sono alcuni partiti che si accodano a quelli più grandi, anche Volta ad esempio fa lo stesso gioco, per potersi poi portare a casa appunto magari un europarlamentare e poi al prossimo giro presentarsi in autonomia. Può essere questo un tema, quindi considerate anche questo aspetto. Dopodiché consideriamo anche che cosa appunto voi potete determinare. Beh, voi avete due strumenti sostanzialmente. Il primo strumento è quello della X, il secondo strumento è quello della preferenza. Quella vostra X contribuisce a raggiungere il 4%, quindi questo cosa significa? Che se una lista non ha il 4% non accede alla seconda fase, ok? Quindi viene eliminata, vedetela così, sotto il profilo puramente calcistico sportivo. Quindi chi prende questo 4% ha diritto all'aspartimento dei seggi, alla distribuzione dei seggi. Dopodiché c'è un altro aspetto da considerare, ovvero appunto le preferenze. Chi ha ad esempio preso più preferenze ha più probabilità di entrare al Parlamento europeo. Questo chiaramente dipende dal numero di seggi che vengono assegnati ad una lista. Ci sono tante proiezioni, io ritengo che tutte siano abbastanza, diciamo, incomplete, perché purtroppo i sondaggi si riferiscono a due settimane fa. Questa è una regola italiana e quindi banalmente non possiamo assumere granché. Tuttavia, da qui discende che non c'è alcun listino bloccato. Quindi il capolista, il rappresentante della lista deciso dal partito, che ne so, che può essere Calenda, Meloni, che può essere chiunque, ecco, non ha alcuna priorizzazione, se non nel caso di pari merito. Però veramente è un caso estremo, diciamocelo in tutta onestà. Quindi cosa significa? Significa che dare la X al partito e permettere appunto la preferenza permette di scegliere o comunque di aumentare le probabilità per quel candidato di salire. E su questo poi ci torneremo dopo. Passiamo al I programmi non servono a nulla. Non guardiamo i programmi perché tanto fanno quello che vogliono una volta all'Europarlamento o comunque al Parlamento italiano. Allora, posto che i programmi sono un tema importantissimo, in cui banalmente ci si siede e si decide cosa scrivere sui programmi, pensare che i programmi siano inutili è un po' come pensare che il business plan di un'azienda sia inutile. Nel business plan cosa si dice? Ma allora cercherò di fare tot clienti, da tot clienti genererò tot fatturato, per generare quel fatturato avrò bisogno di questi costi, farò questi investimenti e di conseguenza alla fine dell'anno avrò questo utile. Chiaramente anche qui ci sono tutta una serie di assunzioni dietro e noi possiamo dire, sicuramente questi cercheranno di prendere quei tot clienti, c'è abbastanza mercato, non c'è, la loro analisi è corretta, dopodiché gli investimenti che faranno o la spesa corrente che hanno in corso è coerente rispetto appunto alla loro previsione, quindi l'utile ha senso, quindi i dividendi li andranno appunto a distribuire, i soldi andranno a distribuire quest'utile attraverso dividendi oppure semplicemente se lo terranno in saccoccia, eccetera, eccetera, eccetera. È molto complesso poter dire che quello che sta scritto nel business plan appunto rifletterà la realtà, tuttavia è quella la direzione e su quella bisogna appunto basarsi per fare dell'assunzione. Poi chiaramente anche qui ognuno può dire, sì, ma quel partito ne spara talmente tante che è un pigliatutto per cui in verità ci sono soltanto alcuni elementi che si porteranno avanti, ma appunto su quegli alcuni elementi potremmo fare le nostre speculazioni e quindi questo è importante. Poi anche qui chiaramente i programmi non devono essere rispettati in toto, c'è invece una richiesta da parte di Giorgio Meloni nella riforma del premierato che prevede invece che appunto il programma sia addirittura vincolante. Tuttavia, se vi ricordate, quando appunto abbiamo affrontato questo tema, dicevo sì, è vincolante, ma i programmi sono talmente ampi per cui uno può far tranquillamente passare quello che vuole. Comunque, se i programmi fossero poco, diciamo, validi, fossero, diciamo, un indirizzo così a caso, non ci si sederebbe però a torno a un tavolo per scriverli, ma si prenderebbe sostanzialmente i punti ideologici dei vari partiti, lì si manderebbe, che ne so, un'azienda, un'azienda di consulenza, un fintank, un qualcuno che appunto scrive quel bel programma serenamente e poi lo si pubblica e quindi avremmo i programmi sostanzialmente in tempi molto molto ristretti. Questo però non avviene. Perché? Perché ci si siede attorno al tavolo e si discute su ogni punto. Anche qui io ho fatto il parallelismo con la seduta di condominio. I primi punti tutti hanno forse le energie, gli ultimi punti fai passare un sacco di roba perché ormai la gente è stanca o comunque tutti sono stati accontentati, quindi sugli ultimi punti mettiamo giusto quei due o tre desiderata che in realtà non ci interessano granché. Guardando appunto poi i fatti, perché questo magari è un ragionamento nell'iperuraneo, ma guardando ai fatti prendiamo ad esempio il programma del Movimento 5 Stelle per il 2018. All'interno trovavamo efficientamento degli edifici. È stato fatto? E purtroppo sì. Si chiama Superbonus, si chiama appunto Bonus Facciate, si chiama appunto Ecobonus. C'è stato un reddito di cittadinanza? Era previsto. È stato fatto? Sì, è stato fatto. C'era la pensione di cittadinanza? È stata fatta? Sì, è stata fatta. E via discorrendo. Ci sono tutta una serie di idee promosse all'interno di quel programma, che era un programma streaming sito di 10 punti, che poi effettivamente sono state raggiunte. Qui Pagella Politica ha pubblicato recentemente un articolo dicendo che non tutti i punti sono stati appunto discussi, ce ne sono 4 o 5 su una decina, e quindi chiaramente quando Conte ci dice noi abbiamo rispettato il programma e mette la percentuale se non vado errato dell'80%, spara una stupidaggine. Tuttavia è innegabile il fatto che quegli obiettivi sono stati considerati prioritari, o comunque quegli obiettivi su cui insistevano sono stati considerati prioritari. Guardiamo Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia aveva sostanzialmente alcune proposte molto interessanti. La prima riguardava il più assumi meno paghi. Ecco, questo sta nella legge di bilancio. È revisionato tantissimo, ma sta. La flat tax sta nella legge di bilancio. La flat tax incrementale sta nella legge di bilancio. L'assunzione di oneri per quanto riguarda i piccoli imprenditori, quindi sostanzialmente gli autonomi, vi discorrendo, è un qualcosa che è stato dichiarato nel penultimo Consiglio dei Ministri, se ricordo bene. Se penso alle pensioni d'oro, anche queste sono state fatte. Chiaramente, quindi, la riduzione del costo delle pensioni d'oro, anche questa è stata fatta. Dopo quattro volte, appunto, la minima, ecco che c'è una riduzione in base all'inflazione. Questo significa che, ovviamente, i programmi vanno presi sempre un pochino con le pinze, perché non stanno scritti nella roccia, non stanno scritti nella pietra, tuttavia sono un indirizzo importante. Pensiamo anche, ecco, un'altra cosa che mi è venuta in mente ora, il piano shock di Renzi. Era un piano per l'edilizia. Si diceva, nei cassetti ministeriali ci sono oltre 100 miliardi di investimenti che potremmo fare, ed era un piano che veniva promosso prima della stesura del PNRR. Alla fine della fiera, cosa è successo? È successo che quel piano si è convertito ed è entrato dentro, appunto, il super bonus. Quindi nel DL rilancio c'è stato questo elemento ancora a confermare che quei piani, quei programmi, che i politici poi cercano di raccontarci. È vero che non in toto vengono raggiunti, è vero che non viene rispettato pedissequamente il racconto, tuttavia, alla fine della fiera, qualcosa salta fuori. Quindi sì, è importante guardare, almeno a mio avviso, i programmi, perché poi ci raccontano molto di come vengono prese determinate scelte. Vado oltre, vado oltre perché, appunto, sul terzo tema è, ma io che cosa devo votare? Questa è una bella domanda abbastanza difficile, perché bisogna andare oltre i programmi e bisogna guardare, appunto, le dichiarazioni. Ad esempio, faccio un esempio, se uno dice io sono particolarmente spinto verso la transizione ecologica, cioè mi interessa tantissimo l'ambiente, in questo caso chi dovrei votare? Io mi sono posto in questa fattispecie e mi sono detto, bah, se fossi veramente convinto che la transizione ecologica è la cosa più importante del mondo, l'unico partito che mi sembra affrontare tutto in quella chiave, cioè ogni singola proposta è incentrata su quell'elemento, è indubbiamente Alleanza Verde e Sinistra Italiana. Perché? Perché se voi andate a leggervi il programma e se andate a vedere le dichiarazioni, il primo punto è sempre fotovoltaico, è sempre no carbone, è sempre anticipare l'uscita dal carbon fossile, è sempre SAD, è sempre, appunto, riferibile a questi elementi. E quindi, se effettivamente tu credi che l'ambiente debba andare in questa direzione, beh, quella è la scelta, secondo me, più opportuna. Di contro, uno potrebbe dirmi, sì, però loro sono contro il nucleare, a me piace il nucleare. In questo caso, mi sento di dirti che dovresti andare verso azione. Perché? Perché alla fine della fiera è l'unico che negli ultimi tre anni, ok, sul tema nucleare non ha mai variato opinione, non ha mai appurato troppo. Chiaramente anche qua ci sono delle complessità relative a finanziamento, costi, dove trovi, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci ritorno, penso di averci dedicato ormai anche troppo tempo. Sta di fatto che, se credi nel nucleare, potrebbe essere una buona scelta andare verso azione. Questo perché, e qui lo dico senza offesa, Stati Uniti d'Europa, Stati Uniti d'Europa è molto debole su questo tema, forse Italia è estremamente debole su questo tema ed è uguale a Stati Uniti d'Europa, forse potresti farti un pochino ammaliare dalle notizie, scusami, dal programma della Lega, che su questo tema comunque mi sembra stia migliorando, mi sembra, ok? Anche qui andrebbe preso molto con le pinze, questo mi sembra, ok? Se proprio vogliamo guardare il programma, tuttavia non è centrale. In azione, invece, parrebbe essere centrale perché comunque Zollino è sempre candidato, perché comunque Zollino fa tanti interventi con Calenda, perché comunque Zollino è comunque una figura di riferimento all'interno della segreteria di azione. Quindi sì, potrebbe essere un tema. Io invece sono euroscettico. Chi devo votare, punto di domanda? Beh, in questo caso ti direi stai attento, nel senso che la Lega mi sembra molto più spinta a fregarsene di quello che vuole fare l'Europa. E invece Fratelli d'Italia, che è visto sempre come partito euroscettico, ha un tentativo, sta mostrando un tentativo di avvicinamento verso Ursula. Cioè, sostanzialmente, sì, rimangono conservatori, sì, magari rimangono contro l'Europa, tuttavia non hanno più quella visione dell'Eurobook e schifo, non hanno più quella visione dell'Europa brutta e cattiva, ma è diventato un'Europa brutta e cattiva, miglioriamola, ok? Collaboriamo con la Commissione. Quindi possiamo dirci che Fratelli d'Italia, lungo questi due anni, si è istituzionalizzato molto. Per cui, se sei euroscettico puro, vai sulla Lega e stai un pochino più tranquillo. Anche se, mi verrebbe d'aggiungere, guardando cosa c'è scritto nel programma, praticamente chiedono a Mamma Europa, ogni tre per due, di sganciare quattrini. Quindi, bello questo euroscetticismo, mi verrebbe d'aggiungere. Tuttavia è promulgato soltanto a parole. Poi, diciamo che nei fatti e in quello che sta scritto, c'è poco di euroscetticismo reale, ecco. Sembra che vogliano, visto che qualcuno si è offeso perché ha usato questa locuzione, la botte piena è il partner ubriaco. E, visto che dà fastidio alla gente, continuerò a utilizzarlo, a maggior ragione. Chi dice, invece, ma a me, Ursula, è piaciuta? Visto che c'è anche questa dicotomia, Ursula non mi è piaciuta, Ursula mi è piaciuta. Chi voto? Eh, questo è difficile da rispondere. Sono sicuro al 100% che questa cosa sia molto difficile fornire una risposta. Secondo me, tuttavia, può andare bene votare sia Forza Italia che il Partito Democratico, in questo caso. Questo perché? Perché il Partito Democratico comunque ha molto interesse verso il Parlamento. Benifei è scoppiettante, secondo me tenterà di fare il Presidente del Parlamento Europeo. Tuttavia, magari sbaglio, ci mancherebbe, è una mia assunzione. Però mi pare che lui sia indirizzato verso questo obiettivo. Ci sta spingendo molto a questo giro. Non lo dà a vedere, chiaramente ho già dichiarazioni di Benifei, voglio diventare Presidente. Magari c'è anche stata, però me la son persa. E il Partito Democratico, comunque S&D, ci sta puntando tanto a questa, appunto, posizione. Quindi potrebbe essere molto, molto interessato a fare un accordo con il Partito Popolare Europeo per, appunto, portarsi a casa la Presidenza del Parlamento Europeo. E quindi lasciare la Commissione al PPA. In questo contesto, se andiamo a leggerci il programma del Partito Popolare Europeo, vengono ricalcate tutte le, diciamo, tutte le posizioni di Ursula von der Leyen. Magari poi, alla fine della fiera, il PPA deciderà di tagliare la testa a Ursula. Però sta di fatto che c'è molta probabilità che il tutto finisca in questo modo. Quindi con Ursula confermata, nel caso in cui, appunto, il Partito Popolare Europeo e S&D facciano questo accordo, ecco, Ursula confermata e poi la Presidenza del Parlamento Europeo ha un esponente di S&D. Però staremo a vedere. Sta di fatto che se non vuoi Ursula, allora ti direi Stati Uniti d'Europa, senza dubbio. Stati Uniti d'Europa con Renzi ha dichiarato apertamente che Ursula non gli piace. Può essere anche la Lega un'idea, visto che ha detto che, appunto, questa Europa non gli piace, però diciamo che ha poco peso dentro il gioco, perché identità e democrazia, diciamo, non stanno andando troppo bene negli altri paesi europei. Si in Francia spinge, però diciamo che ha perso anche Alternative for Deutschland, quindi potrebbe avere un peso inferiore da questo punto di vista. Andando oltre, c'è anche un discorso rispetto all'Ucraina, che è, diciamo, il grande elefante della stanza. E qui è un discorso veramente complesso. Perché? Perché partiamo dai partiti italiani e anche dalle loro dichiarazioni. Se vuoi difendere l'Ucraina, non puoi votare Movimento 5 Stelle, non puoi votare AWS, questo perché, appunto, prima i Verdi erano molto prodifesa, ora si sono, mi sembra, appianati sulla posizione più di fratto gli anni. Per quanto riguarda Stati Uniti ed Europa, e siamo europei, ci torno fra poco. Per quanto riguarda Forza Italia, diciamo che è troppo dipendente dalle scelte, poi, della politica italiana. Per quanto riguarda la Lega, non c'è niente da aggiungere temo, rispetto, appunto, a quello che ho già evidenziato inizio anno. Quindi è un partito che continua a mantenere i suoi rapporti col Cremlino, spero intermediata persona, per intermediari, scusatemi. Fratelli d'Italia è un partito che, comunque, nonostante le uscite ogni tanto indecorose di Crosetto, ha continuato a sopportare l'Ucraina, nelle parole. Purtroppo, nei fatti, l'Italia non ha fatto granché, cioè non ha inviato aiuti e via discorrendo. Quindi, da questo punto di vista, io direi che Fratelli d'Italia è papabile. Poi valuterete voi secondo coscienza. Partiamo da Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Europa, sono abbastanza sicuro che l'anima più vicina a più Europa sia d'accordo nel mantenere gli aiuti all'Ucraina sempre e comunque. Per quanto riguarda la parte renziana, ci sono alcuni passaggi all'interno del discorso che Renzi fa con Shai al Breaking Italy Night che mi fanno abbastanza riflettere, che mi hanno fatto abbastanza riflettere. Perché alcune sue dichiarazioni vergono su un sì, però, se ci conviene, a un certo punto forse ha senso firmare un accordo anche se l'Ucraina poi ne paga le conseguenze, chi se ne frega, ma chiudiamola qua. Mi sembra un discorso cinico, però mi sembra un discorso da Renzi, ecco. Da un Renzi che a un certo punto usa l'Ucraina per ottenere qualcos'altro. Quel qualcos'altro non so ancora cosa sia, però alcuni passaggi, in riferimento a Xi Jinping, in riferimento a Putin, e soprattutto alcuni attacchi a Macron ultimamente, mi hanno fatto riflettere su questo argomento. Per cui ho molta insicurezza rispetto appunto a Renzi e alla sua posizione pro-Ucraina. Ultimamente poi tra l'altro non si sta sbilanciando troppo, a differenza di Calenda, che un giorno ti fa dire bravo Carlo, cavolo, hai detto proprio la cosa più corretta del mondo, tipo ieri, o tipo 4-5 settimane fa, o due mesi fa, rispetto al suo intervento in Parlamento per l'invio di armi, e poi altre volte, diciamo, perde un po' la bussola e inizia a raccontarti di armi difensive, offensive, corto, lunga gittata, oppure che Stoltenberg sta sbagliando e poi il giorno dopo dice che sostanzialmente Stoltenberg ha detto bene. Insomma, non si capisce qual è la direzione, meglio, lo si capisce. Un uomo che ha un processo di decisione che esteriorizza troppo. Ecco, vediamola così. Poi qualcuno si vede che all'interno della sua segreteria gli fa notare l'errore e poi, diciamo, poi cerca di modificare la sua visione. Quindi queste sono le posizioni in campo. E da ciò discende anche un altro argomento, se ci pensate. Perché se io mi ritrovo a dare la preferenza, che ne so, o comunque dare la X a Stati Uniti d'Europa o a Siamo Europei e poi alla fine della fiera c'è sempre questo scombussolamento. E questo scombussolamento è rilevante all'interno del Parlamento europeo perché condiziona il voto. Ecco, paradossalmente io sto diluendo il potere di Renew, di Macron. Macron invece mi sembra un uomo che ha ormai finito la sua carriera politica a livello comunque nazionale, poi vediamo a livello europeo, se eventualmente si porterà a casa un qualche ruolo rilevante. Però non vorrei che questa continua indecisione vada a diluire invece la posizione di Macron, su cui io ho sempre ammesso di essere particolarmente vicino. Quindi mi sento molto vicino alla posizione di Macron da questo punto di vista. Quindi aiuto incondizionato. Anche lui ogni tanto sbanda, è ben inteso, non sto dicendo, che è uno statista al 100%. Insomma, come al solito queste etichette poi vengono definite dalla storia e quindi lo sapremo fra 100-200 anni, una cosa di questo tipo. E quindi probabilmente non lo sapremo, salvo che inventano qualche meccanismo strano per stare in vita, ma dubito fortemente. Sta di fatto che appunto mi pare evidente che ci sia un rischio. Un rischio, non prossimo a uno chiaramente, però un rischio da valutare poi in cabina elettorale. Su questo io sto riflettendo ancora e quindi c'è questo elemento da considerare. Se invece voglio votare per la Palestina, ah, è qua, qua tema importante. Se voglio votare per la Palestina, vabbè, palese che non debba votare a destra, penso che i più chiari su questo punto siano Azione Verde e Sinistra Italiana e in parte il Partito Democratico, perché comunque ha una fortissima base che spinge su questo tema. Tuttavia io non ho visto dichiarazioni serie da parte del Partito Democratico su questo argomento, ma solo di contesto, eccetera, eccetera. Invece mi pare che AWS e Movimento 5 Stelle siano molto, molto più concreti in tutta onestà. Ci sono anche delle dichiarazioni ultime da parte di Calenda, ma anche qui rientrano nel discorso che facevo poco fa le dichiarazioni alla fine della campagna elettorale. Quindi sono dichiarazioni, secondo me, da prendere un po' con le pinze, perché sono volte forse a raccogliere un po' di consenso e poco altro. Non è un elemento su cui credi davvero. Dopodiché c'è chi vuole modificare assolutamente le istituzioni europee. E perché? Perché si dice che lo spizio in candidata non mi piace. Cioè la scelta del leader all'interno di un partito tale per cui poi ci sarà il Consiglio, valuterà il leader, poi si voterà attraverso il Parlamento europeo, il tutto un pochino opaco, molto scuro, e si presta, diciamo, a degli accordi in sordina. Oppure non mi piace il voto all'unanimità, posto che non è vero che si vota sempre all'unanimità, dipende da tutta una serie di condizioni. Oppure non mi piace che ne so come funziona il Parlamento, quanto possa legiferare, quanto effettivamente è indipendente, e via discorrendo. Oppure non mi piace come funziona la Commissione europea, oppure vorrei effettivamente un ministro degli esteri, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste cose purtroppo non dipendono dal voto al Parlamento europeo. Questo perché? Perché l'Unione europea si regge sui trattati e questi trattati piaccia o meno dipendono dai vari governi. E quindi, essendo che dipendono dai governi, questa domanda eventualmente troverebbe una risposta nelle elezioni nazionali, quindi quelle che abbiamo fatto nel 2022 e non riguarda quindi quelle del 2024. Questo è un altro argomento importante. Lo stesso si dica per leggi che sono propriamente di carattere nazionale. Penso ad esempio il Partito Democratico che vuole il salario minimo a 9 euro, se non vado errato, ricordo bene, oppure la riduzione delle ore di lavoro spinta dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico ad Azioni Verde e Sinistra Italiana. Anche queste sono magari punti su cui siamo molto d'accordo, ci sentiamo molto vicini. Va benissimo, tuttavia la direttiva sui salari minimi è stata fatta e come potete vedere, come abbiamo argomentato più volte su questo canale, non obbliga alcuno Stato a recepire un salario minimo a 9 euro. Ecco, non c'è questo scritto nella direttiva. Quindi, anche questi temi secondo me vanno considerati, sono pura propaganda per raccogliere interesse. Quindi, magari votate pure Partito Democratico, se siete d'accordo con il salario minimo a riduzione delle ore, eccetera, eccetera, ma non valutatelo su questi temi. Valutatelo su altro. Ci sta valutatelo su altro. Super d'accordo da questo punto di vista, ma non considerate, questo è il mio consiglio, non considerate come punto di rimente della questione questi elementi. Allo stesso modo per chi propone la modifica delle istituzioni europee. Non valutatelo su quello perché è un discorso abbastanza pleonastico, inutile, che potrebbe farvi prendere delle cantonate. Quindi, che ne so, azione propone la difesa estera comune, non votatelo per quello. Votatelo per azione propone l'efficientamento della spesa europeo. Ha più senso. Può intervenire di più il Parlamento, effettivamente, ma non votatelo per la difesa estera comune o per l'abolizione del diritto di veto, eccetera, eccetera, perché sono appunto cose che riguardano i governi, quindi il parlamentare europeo non può far nulla. ma se io voto un certo partito e questa mi viene da svago, non avevo risposto a questa, però è un'altra domanda che mi è arrivata. A chi va il mio voto a livello europeo? Beh, in questo caso, ecco, in questo caso c'è un grossissimo dipende, nel senso che per quanto riguarda, anzi, se posso, prendo, per rispondere a questa domanda, prendo questa scheda Wikipedia che è fatta abbastanza bene, secondo me, è in inglese, ma in verità è facile di lettura, figuratevi. Ecco, se io voto il Partito Popolare Europeo, questa è una domanda interessante, l'idea è Ursula von der Leyen, quindi se voto Forza Italia, voto il Partito Popolare Europeo, PD, voto il Partito Socialista Europeo, e quindi c'è Smith, per quanto riguarda l'Alde e per quanto riguarda il Regno in verità, devo capire a chi fanno riferimento, perché chiaramente i liberali, sapete, devono avere le sovrastrutture dei partiti, quindi qua è tanto divertente. Allora, abbiamo da una parte l'European Democracy Party, ok, quindi sostanzialmente il PDE o EDP, se preferite, o il Partito Democratico Europeo, e per loro c'è Sandro Gozzi, che è molto più vicino a Renzi. Per quanto riguarda invece l'alleanza dei liberali, democratici, europei, quindi l'Alde, Beferostad, se vi dice qualcosa, ecco, loro sono storicamente invece più vicini a più Europa, ok, e qui abbiamo Zimmerman, abbiamo una situazione un pochino più vicino all'Alde, e che fa ridere sta cosa, cioè capite benissimo che ci sono troppe incongruenze in questa rappresentazione. Per quanto riguarda invece il Partito dei Verdi, appunto se votate Verdi e Sinistra Italiana, il vostro voto invece si biforca. Perché? Perché chi è che sta nei Verdi può stare nei Verdi europei, e chi invece sta in Sinistra Italiana sta appunto, almeno dice di fare riferimento alla Sinistra Europea, che è invece un altro partito con Bayer. Per quanto riguarda invece il Partito dei Verdi, abbiamo queste altre due persone che onestamente non conosco, quindi andrò dritto. l'ECR puro, ok, quindi European Conservative and Reformist Party, non hanno definito uno spezzoncandidate, allo stesso tempo Identità e Democrazia non l'hanno definito, anche per protesta sostanzialmente. Tra l'altro Identità e Democrazia, vi segnalo, non ha neanche depositato un programma, almeno non mi risulta da questo punto di vista. Qui avete tutti i programmi, chiaramente, io come vedete li ho letti praticamente quasi tutti, tranne EFA che non mi interessava particolarmente e tranne anche ECPM non mi interessava, conta veramente poco. Volta Europa ho letto quello italiano, il Partito Pirata non ci sta in Italia quindi non ha molto senso ragionarci e anche di M25 per cui valutando anche questo aspetto tanti auguri capisco che che dice voglio delle liste chiare però così non è purtroppo. Un'altra domanda che mi è giunta ultimamente invece perché l'altro giorno abbiamo parlato con Matteo Flora sulla questione intelligenza artificiale era ma io chi devo votare se voglio avere un indirizzo chiaro sull'intelligenza artificiale? Qui mi dispiace ma non ho la risposta nel senso che come abbiamo visto in vari programmi vabbè io l'ho saltato a pie pari più delle volte perché non volevo perderci troppo tempo sul tema dell'intelligenza artificiale però come abbiamo visto anche qui i partiti non hanno la più vaga alba di cosa sia l'intelligenza artificiale e quindi anche questo tema secondo me non va considerato va considerato marginale purtroppo perché non c'è una figura effettiva su cui valutare qualcosa un'altra domanda che mi è stata posta e quindi ritorno a un tema che accennavo all'inizio cioè ma dimmi un po' quale sono le previsioni guardiamole pure ci mancherebbe io ho preso questa che mi sembra quella più interessante cioè voglio votare un partito che sicuramente finirà all'interno del Parlamento perché di sprecare il mio voto con azione o comunque con Stati Uniti d'Europa o con non so Cateno De Luca o con Bandecchi non mi va chi devo votare oppure con la lista di Santoro non mi va chi devo votare allora ci sono delle simulazioni ma ripeto ormai sono al 3 maggio 2024 sono vecchissime poi ve ne faccio vedere un'altra che è un pochino più recente fatta da Ruffino molto bravo seguitelo su Twitter cosa dice dice che Fratelli d'Italia si beccherà il 2027 2027 seggi quindi non male Partito Democratico tra i 14 e i 19 Movimento 5 Stelle 11-16 La Lega 5-8 Berlusconi 4-8 qui si vede poco facciamo così che si vede meglio ottimo Stati Uniti d'Europa c'è la probabilità che faccia a zero quindi se non volete sprecare il voto e avete una soglia di tolleranza abbastanza bassa da qui in avanti quindi Stati Uniti d'Europa AWS Azione e tutte le altre liste non vale la pena andarle a votare se questa chiaramente è il vostro desiderata anche qui vi consiglio di guardare i seggi anche i seggi sono importanti come vengono distribuiti tipo ad esempio Fratelli d'Italia ne prenderà tra 1 e 3 nelle isole se vedete Stati Uniti d'Europa che ne so è molto più probabile che prenda qualcosa al nord-est al nord-ovest quindi potreste anche valutare questo aspetto se appunto non volete sprecare il voto mi pare di capire che per quanto riguarda azione è molto più probabile che lega qualcuno al nord-ovest e qui anche forse la scelta di Zollino è la scelta di Calenda di spostare Zollino da Padova appunto al nord-ovest visto che era un tema che tiravo fuori prima su cui si potrebbe riflettere e via discorrendo quindi valutate anche in base a questi aspetti e c'era anche l'articolo di Pagella Politica sì me lo sono segnato fatto appunto come vi dicevo da Lorenzo Ruffino e lui ha calcolato proprio quale fosse la probabilità di superare la soglia di sbarramento all'europea per quanto riguarda Stati Uniti d'Europa è molto alta 70,3% per quanto riguarda Alleanza Verdi-Sinistra Italiana 59% e per quanto riguarda l'azione 49% diciamo che ci sono poche probabilità per l'alternativa popolare libertà pace terra dignità nel caso in cui foste in questa situazione di indecisione valutate questi dati cercatene anche altre ben inteso anche qui non è che vi sto facendo vedere tutte le simulazioni del mondo vi faccio vedere quelle che secondo me sono più interessanti perché Utrend ha un track record molto positivo nelle previsioni sui sondaggi che qui non sono previsioni in verità ma semplicemente sono tutta una serie di assunzioni di ipotesi vi discorrendo molto più complesse vi rimando ai vari video che ho fatto con Pregliasco sul tema e andando oltre Pagella Politica invece perché l'ha scritto Ruffino quell'articolo e Ruffino collabora anche con Utrend che ancora un'altra volta ha un buon track record non so se BD Media ha fatto appunto una previsione da questo tipo potrebbe essere interessante andare a vedere la loro di previsione alternativa io non l'ho vista e quindi vi chiedo scusa perché poi anche qui il tempo è limitato a proposito di seggio anche questo un altro tema interessante che mi è stato richiesto cioè ha senso andare a votare un partito soltanto per la preferenza e questa è una domanda molto molto birichina perché perché se noi ad esempio vogliamo votare Carla Carla ci piace tantissimo che Carla rappresenta i nostri ideali rappresenta quello che vogliamo per l'Europa a prescindere poi da qual è il suo pensiero insomma Carla ci piace un sacco il problema è che Carla per quanto ci piaccia è dentro un partito che diciamo ci fa storcere il naso più e più volte la signora Carla sta dentro il partito della della fragola partito della fragola però cazzerola sai che tutte le volte che lo guardo non mi piace poi tra l'altro il partito della fragola c'è dentro Carla perché perché praticamente il partito della fragola inizialmente aveva l'idea di Carla poi è arrivato Luigi Luigi ha fatto un takeover della Madonna sul partito della fragola e si è preso tutto il partito quindi ho un fortissimo dubbio che il mio la mia x contribuisca a dare un più uno seggi appunto al partito della fragola e qui mi chiedo ma poi il partito della fragola verrà votato dai sostenitori di Luigi o dai sostenitori di Carla ed è per quello che dico che le preferenze sono ottime perché io posso scegliere la competenza tuttavia hanno un problema di omogeneità quindi questo potrebbe essere un altro tema se per caso vi interessate a questi argomenti e quindi io penso di aver risposto a tutto quello che era più rilevante direi che ci siamo detti tutto per oggi io vi rinvito a mettere un like per sostenere il canale insomma discutiamone pure tranquillamente qua sotto preferenze valutazioni non andate però su discorsi veramente che hanno poco a che fare col canale ve ne prego anche perché dopo diventa un po' noioso e faccio anche la parte del cattivo quindi statemi discretamente bene il mio invito è andare a votare l'8 e il 9 giugno andate a votare annullate eventualmente la scheda ma andate recatevi al seggio perché chiaramente è un dovere è un dovere e se ve la sentite date la vostra preferenza a qualcuno valutate io penso che sul canale ci siano tanti elementi su cui poter ragionare in tranquillità e ripeto le mie analisi non sono volte all'astensionismo cioè ovviamente io ho la mia idea ci mancherebbe ma sono volte a mettere in luce quali sono i pensieri dei vari programmi che pensieri sono espressi nei vari programmi si va di bandecchi e io direi che con questa abbiamo chiuso perché con bandecchi io direi allegria allegria statemi discretamente bene ciao ciao buon voto ci vediamo lunedì ah e anche maratona greco è vero vero domenica faccio un salto da greco vediamo come va ciao 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 ciao